Rammuto l'etono. Quattro, tre, due. Rammuto l'etono. Se no, mamma, non è il fotografo che ti piace a me. Non duro. Tu hai fatto che le vettricchi? Oh, ma che stai facendo? Tu sei chi balla qua. Oh, ma che stai facendo il fotografo che ne parla? Tra poco ha dicono il fatto che ci piace a lui. Lei è mia amica e ci sta molto male per la vostra relazione.